E' già in sella anche se la bici non l'ha mai lasciata. Oggi è un industriale affermato in tutto il mondo. In passato è stato un valente corridore fino alla categoria Juniors. Ora si sta per cimentare nella corsa più dura visto che la politica è un impegno e una passione forse più impegnativa di quelle salite che aggrediva quando era protagonista con la bici. Scopriamo Emiliano Taranghelli che si candida sindaco di Bucine. In ambito professionale ho girato tanto il mondo. Sono stati in posti peggiori dei nostri ma anche molto migliori. Però ho sempre sentito il desiderio di ritornare a casa nelle proprie radici. Lei è ben impiantato a Bucine visto che è titolare di una delle importanti aziende del territorio. Come fa a conciliare l'impegno politico con quello amministrativo con l'attività di tutti i giorni che è un'attività che assorbe molto tempo. Io ho iniziato la mia attività laborativa con un'azienda piccola e quindi quando l'azienda è piccola nelle spalle del proprietario insomma di colui che la conduce ricade tutto dalla A alla Z. Poi man mano che l'azienda cresce arrivi a un certo punto in cui lavori 16, 17, 18 ore al giorno ma poi diventa per te impossibile personalmente perché sono ritmi non adeguati alla persona umana e dopodiché diventa anche un collo di bottiglia per l'azienda che non cresce più. Da lì sono riuscito a iniziare a delegare a certe figure, quelle meritevoli che consideravo meritevoli e quindi a costruire nell'arco degli anni una squadra. Devo dire che oggi la squadra è molto ben articolata, funziona molto bene e quindi vanno avanti anche senza di me. Io mi sto dedicando a questa nuova avventura con piacere e con soddisfazione. La sfida è partita.